Nuove scoperte scientifiche sulle pietre e i colori creati dal settimo principe di Sansevero. Una ricerca dell'Università degli Studi di Bari a Domoro ha rivelato che il principe fu l'inventore della ricetta per riprodurre artificialmente il preziosissimo pigmento blu ottenuto in natura dai lapis lazzuli. La ricerca è stata presentata al Museo Cappella Sansevero di Napoli, ci dice di più la direttrice Maria Alessandra Masucci. Un'indagine di tipo storica sull'attività di Raimondo di Sangro, in particolare sugli esperimenti sui minerali e dopodiché accompagnata da poi indagini sul campo, quindi di tipo tecnico-scientifica, quindi un nuovo approccio. Lo studio è stato condotto dai ricercatori del Centro Interuniversitario di Ricerca Seminario di Storia della Scienza in collaborazione con quelli del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università degli Studi di Bari a Domoro a guidare il team di lavoro di docente di Storia della Scienza Francesco Paolo De Ceglia. E noi volevamo studiare come il principe di Sansevero avesse ottenuto delle pietre artificiali, perché spesso si parla di pietre artificiali del principe di Sansevero, ma non c'era l'evidenza scientifica. Quindi abbiamo trovato delle vecchie fonti che individuavano ad esempio una cornice, qui come una cornice fatta in un lapislazzoli finto, cioè riprodotto artificialmente, ma che le guide, i libri contemporanei ritenevano che fosse vero lapislazzoli. Grazie a tutti.